E rieccoci in onda, Voce delle Chiese continua il suo viaggio, proseguiamo la nostra puntata di oggi e parliamo di arance, ma non qualsiasi tipo di arance, questo è un tipo speciale di arance perché sono le arance solidali del progetto Etica che sovente vi abbiamo raccontato, che sovente sono state presenti all'interno delle nostre trasmissioni. Ritorna anche quest'anno la possibilità di partecipare quindi a questo progetto che punta a un'attenzione ai diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, a un diritto di un lavoro dignitoso e dignitosamente anche pagato e ognuno di noi, ognuna, ognuno di noi può fare la sua parte. Abbiamo con noi il pastore Michel Charbonnier, pastore della Chiesa Valdese di Torrepellice. Ciao Michel, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie. Grazie a te per essere qua, anche quest'anno la Chiesa Valdese di Torrepellice si mette in gioco e propone la possibilità a chi vorrà di poter scegliere da un ampio carrello di proposte che però sono legate appunto a questo progetto di Etica, giusto? Sì, esattamente. Noi siamo stati un po' quelli che dalla prima ora hanno sostenuto questo progetto e quindi abbiamo l'abitudine di metterci in contatto direttamente con SOS Rosarno. Poi il progetto è cresciuto, si è ampliato, si è allargato e appunto la federazione che da sempre ha promosso questa collaborazione ha messo in piedi anche una struttura per sostenere magari le chiese più piccole che appunto non hanno ancora esperienza con questa cosa, però appunto noi direttamente da SOS Rosarno ormai abbiamo diciamo una collaborazione collaudata. Credo che questo sia il quinto anno se non sbaglio. Sì, sicuramente sono più di un anno ormai che ricordiamo questa possibilità, citavi Rosarno, SOS Rosarno è un progetto legato al progetto migranti e rifugiati della federazione chiese evangeliche in Italia e parte un po' da lì, no? Tutta una cascata, tutta una serie di iniziative. SOS Rosarno è una cooperativa di Rosarno con la quale la federazione ha avviato questo progetto che è legato oggi appunto anche a un marchio, un marchio etica che vuole essere appunto un marchio che garantisce in qualche modo la provenienza e anche la modalità di confezionamento, di produzione e di distribuzione distribuzione è una parola assolutamente fondamentale su questo etico di tutta una serie appunto di prodotti. Esatto e poi ci sono tanti progetti collaterali, li potete trovare tutti anche collegati appunto al sito MH piuttosto che al sito della federazione delle chiese evangeliche progetti di tutela mentre si va al lavoro, quindi un'attenzione magari ad un'illuminazione maggiore nelle strade piuttosto che un ostello, l'ostello Dambesol che è un ostello che è nato proprio come sviluppo ulteriore di questo sostegno, giusto? Sì, assolutamente. Dambesol in lingua Bambara significa casa della dignità. È uno stabile di due piani che era disabitato da molti anni e che la proprietà è ristrutturato grazie appunto a un contratto di affitto con Mediterranean Hope e che garantisce appunto anche in loco un'ospitalità dignitosa ai tanti lavoratori stagionali che invece di solito dormono nelle baracche. Ecco allora l'idea è un pochino che si tratti dell'ostello, che si tratti di vari progetti collaterali che tu citavi, che si sostengono acquistando questi prodotti. L'idea è proprio, diciamo, di dimostrare che non solo si può, come dire, avere un prodotto di qualità a praticamente gli stessi prezzi della grande distribuzione, ma addirittura si può riuscire ad avere una ricaduta sia sul livello locale a Rosarno che anche in una sorta di circolo virtuoso in altri posti del mondo, del pianeta, che appunto questo progetto in realtà sostiene dopo aver appunto sostenuto la realtà locale di Rosarno e dopo aver distribuito prodotti etici e di qualità. Quindi tanta roba. Tanta roba sì. Tanta roba a fatica zero nel senso, in effetti, o comunque minima. Forse ci sono alcune, diciamo, perplessità ogni tanto, eh, ma non so quando arrivano, eh, ma mi dite un giorno poi arriva l'altro. Teniamo conto che il tutto, quello di cui parlavi prima, Michelle, la distribuzione, viaggia, eh, con delle tempistiche a volte difficili da, eh, prevedere e soprattutto si cerca di ottimizzare questa distribuzione. Assolutamente, assolutamente le tempistiche sono difficili da, da prevedere. Noi non siamo dei professionisti, non siamo tanti e non siamo al cento per cento solo su questo progetto, quindi c'è bisogno di un po' di, un po' di pazienza e di un po' di elasticità. In più non è la grande distribuzione, lo ripetiamo sempre, e quindi capita che se il raccolto, eh, un anno va meno bene, ci sono più problemi, ci sono più mandarini, magari che dal tempo di arrivare da Rosarno a qui, eh, passano un pochino, altre volte va benissimo, insomma. Non ci sono gli avocado che avevamo ordinato e purtroppo la produzione dipende dal tempo, da tante cose. Ordinato, a volte c'è altro, ecco, insomma, è tutto, ecco, non siamo, non siamo un supermercato, ecco. Io credo che questo la gente lo capisca, lo capisca bene, appunto, se si vuole il tempo zero, la velocità e la, magari, l'arancia sempre perfetta, ma non sappiamo mai a quale costo, insomma, si può andare al supermercato, ma io credo che, appunto, se facciamo questo, è proprio per un discorso di giustizia, di equità, di testimonianza, e che ormai, insomma, lo sanno in tanti, e il fatto che si continui con questo progetto anno dopo anno, ne conferma, ecco, io credo. Assolutamente, un progetto che, peraltro, costa fatica, costa impegno, costa ore di lavoro, insomma, a chi ci sta dietro, però è anche un modo per dimostrare che ci interessa, ci interessa quello che accade al di là della nostra casa, al di là della nostra chiesa, della nostra comunità, ci interessa fare in modo che possiamo, un minimo, fare, insomma, la piccola differenza, no? Fare quel minimo per cercare di aiutare anche chi, purtroppo, tante facilità non le ha al momento. Esattamente, esattamente. E ci sono, tu citavi, dei progetti collaterali, perché ci sono due novità quest'anno, oltre al fatto che, appunto, potete scegliere, lo trovate sui cammini social della chiesa valdese di Torrepellice, ci sono anche altre realtà di chiesa che lo fanno, sicuramente Torino, non so quante altre, però, insomma... Ma anche qui il progetto, in realtà, è più ampio della chiesa valdese di Torrepellice, ci sono tante altre comunità valdesi, ma non solo, ci sono tanti amici e amiche che collaborano, ecco, ci tengo a dirlo. Però, sì, sui canali della chiesa valdese di Torrepellice si trovano, oppure chiedendo ai propri pastori, delle proprie comunità, insomma... Passaparola di... Assolutamente. Della proposta. La proposta che si arricchisce di due novità quest'anno. Sì, esattamente, proprio in quest'ottica di, come dire, continuare a promuovere questo circolo virtuoso, per cui c'è una ricaduta positiva anche in altri angoli del pianeta particolarmente sofferenti. Allora, quest'anno, è una proposta dell'associazione stessa, SOS Rosarno, per ogni vasetto di trasformati a base di peperoncino viene destinato un euro a una onlus, che si chiama Gazella, che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione di bambini palestinesi ferite da armi da guerra, e per ogni vasetto delle... alcune tipologie di marmellate che abbiamo inserito in catalogo, viene invece destinato un euro a Rescue People, Saving People, che è un'organizzazione che salva vite umane e salvaguarda i diritti umani. Ultima importante informazione, c'è tempo fino a venerdì primo dicembre. Esattamente. Per fare il vostro ordine. Esattamente, esattamente. Non vogliamo fare la televendita adesso, però, insomma, la tempistica è importante perché permette poi di essere puntuali, no, a catena anche sull'arrivo poi degli ordini. Esattamente, ci vuole circa una settimana abbondante dal momento dell'ordine, quindi prevediamo un arrivo della merce nella settimana dell'11 dicembre. Di solito è il... si tratta del lunedì o del martedì, ma questo, come sempre diciamo, lo sappiamo solo all'ultimo. La buona notizia è che anche quest'anno, ancora quest'anno, il luogo di consegna sarà lo stesso degli anni scorsi, grazie alla generosità del proprietario che ringraziamo. Lui sa chi è, non facciamo il nome perché non vuole, ma... Ma anche questo è importante, sì, assolutamente. Quindi, insomma, arance, ma non solo, perché poi ci sono appunto tanti altri prodotti che potete andare a vedere, a curiosare nell'elenco che è stato predisposto. Fate riferimento ai canali della Chiesa Valdesi di Torrepellice o altre associazioni annesse per questa possibilità di aderire alla solidarietà, all'aiuto, all'attenzione verso i diritti del prossimo con le arance solidali della filiera etica. Grazie Michel per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi per questo spazio, a presto.